La campagna del 2021 dei forestali sarà praticamente pagata con i fondi comunitari. Questo significa qualificare la spesa perché faremo dei progetti specifici e alleggereremo notevolmente le sorti del bilancio regionale. Per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo appostato intanto la somma che ci garantisce di poter cofinanziare i progetti comunitari del PSR, sono circa 50 milioni di euro. E poi abbiamo una serie di misure che sono prepodeutiche alle due riforme essenziali che andiamo a fare subito dopo l'approvazione della legge di bilancio che sono la riforma del consorzio di bonifica e la riforma strutturale dei forestali. Un occhio di riguardo l'abbiamo avuto anche per il settore della pesca, abbiamo rimbinguato il fondo di aiuto alle imprese, anche tenuto conto di alcune esigenze tipo gli affondamenti o i sequestri dei nostri natanti.